eccoci qua amici oggi parlerò della banconota mille lire di marco polo allora marco polo e questa banconota che esce nel 1982 ha delle connessioni con degli avvenimenti del 1982 che sono pazzeschi cioè la storia veramente ci regala ci regala delle connessioni che sono inimmaginabili e ve le spiego intanto questa banconota sostituisce questa di giuseppe verdi sostituisce questa e vediamo velocemente perché le cose sarebbero da dire tantissime poi diventa noioso il video non guarda nessuno eccetera giù praticamente questo è il ritratto di marco polo che viene prelevato da un dipinto conservato nella galleria doria pompili di roma mentre nel retro c'è uno scorcio diciamo del palazzo ducale di venezia perché marco polo era veneziano e quindi il senso logico di questa banconota è la connessione tra la raffigurazione del personaggio e anche anche la società come nelle mille lire del dello scorso del periodo passato queste qua di giuseppe verdi che c'era il teatro alla scala dietro non devo dire io chi era marco polo un viaggiatore un scrittore un ambasciatore un mercante e viaggiava molto in estremo oriente no e la particolarità di questa banconota che esce nel 1982 il 1982 è l'anno della vittoria dei mondiali di calcio dell'italia dell'italia di berzot quindi lui viaggiatore e il nostro paese conquistatore del mondo del pallone tra l'altro in quell'anno cambiarono molte cose e non so alla juventus arrivarono bonic platinic erano dei campioni e erano ammessi due stranieri per squadra e paolo rossi vince il pallone d'oro e poi altri avvenimenti anche non belli purtroppo che a settembre la mafia uccide il generale dalla chiesa debuttano delle film i film storici supercar michael jackson è diciamo il cantante che ha venduto molte molti più dischi di sempre in quell'anno nasce radio italia milano e un'altra cosa interessante che ha cambiato un po il nostro modo di vivere sono l'arrivo degli dei cd e dei compad disc e con un formato è diverso e è l'anno di cui debutta silverse stallone rambo e nascono dei degli attori in quell'anno non so silvio muccino nasce il il più amato william de winter e così via insomma adesso sono tante le cose da dire però poi dopo diventa troppo lungo un saluto a tutti e ci vediamo ci sentiamo anzi ci vediamo no perché ci sentiamo alla prossima banconota